Questa Turchia è così più forte dell'Italia? Perché la mia sensazione è che tatticamente Montella abbia stravinto il confronto a molta distanza con Spalletti però in realtà io credo che semplicemente noi abbiamo pagato i nostri errori nella scelta di un modulo, di una chiave, di un'idea perché non penso che la Turchia sia così più avanti Io credo che dobbiamo accordarci su cosa vuol dire essere più forte Oggi la Turchia è più forte dell'Italia ma non è una questione di confronto singolo fra gli uomini perché questo nel calcio non vale nulla Non è neanche un discorso di dire perché li fa giocare così o li fa giocare cos'ha Dov'è che sta la differenza abissale fra la Turchia e l'Italia ma fra l'Italia e praticamente tutte le altre squadre che ho visto in questo europeo? Nell'atteggiamento, nell'attitudine i turchi hanno corso, i turchi hanno lottato come hanno fatto praticamente tutti la Slovenia che va fuori come va fuori la Slovacchia che va fuori come va fuori contro l'Inghilterra sono squadre che hanno messo in campo un'intensità, un'unità, una voglia, un'anima, uno spirito tutte queste cose che l'Italia non ha messo in campo mai se non mezz'ora contro l'Albania poi parliamo di moduli, poi parliamo di tutto ma questo è la base della differenza è verissimo e questo però vuol dire che dobbiamo proprio puntare il dito contro i nostri perché se è mancata questa cosa è mancato tutto io credo che sia mancata anche un'idea però di calcio che l'Italia non ha avuto mai infatti secondo me c'è una grande discussione costante sulla parola modulo anche noi in chat ogni tanto diciamo moduli ma in realtà poi alla fine è proprio questo c'è l'idea di calcio quando c'era la formazione dell'Italia ci si chiedeva sempre ma giocherà tre o giocherà quattro infatti non è che non ha avuto in Italia ne ha avute troppe